Terra Mara Anticipazioni Annine rivela a Fekili un segreto del passato di sua figlia. Unkar e Fekili diventeranno i nuovi innamorati, di cui nella sob si seguiranno gli eventi. La notizia nel video invece sarà che la nonnina Annie preparerà un suo piano per rivelare inconsciamente tutta la verità che ha sempre tenuto nascoste per moltissimi anni. Unkar rientra in casa e non vede sua madre seduta sul divano come solitamente è, quindi pensa che qualche domestica la stia accudendo, visto che da sola ormai, a causa della sua malattia, sono molto poche le cose che riesce a gestire da sola. Ma nessuna delle domestiche sa dove sia andata a finire la nonnina. E subito si crea un'agitazione pazzesca all'interno della villa. A questo punto Unkar si angoscia terribilmente perché sa benissimo le sue difficoltà ed allerta tutti alla tenuta per attivarsi a cercarla, lasciar perdere ogni altro lavoro che stanno facendo ma che si attivino subito nelle ricerche. Unkar non sa di certo che l'anziana nonnina sia sentata dalla villa, o meglio è dire fuggita, per fare una visita a Fekely nella sua tenuta. Ed è andata a sedersi proprio sulla terrazza panoramica da sola, parlando da sola e con i suoi fantasmi. Ad un certo punto un dipendente di Fekely, che la vede lì, gli comunica che ha visto una persona anziana che era seduta sul terrazzo di sua proprietà ed è completamente sola e che parlava anche da sola. Fekely, sollevando lo sguardo verso la terrazza, si accorge subito che è la mamma di Unkar. Poiché lui la conosce molto bene, la nonnina sembra un po' spaisata, ma stranamente si è seduta da sola nel posto preferito da Unkar e da Fekely. Fekely a quel punto tranquillizza i suoi uomini, dicendo che conosce bene la signora e perciò le si avvicina con dolcezza, per non spaventarla, sapendo del suo fragile equilibrio e nello stesso tempo con educazione. Infatti, con l'educazione che lo contraddistingue, decide di tranquillizzarla e si siede proprio di fronte a lei per parlarle. Se c'è, qualche cosa che caratterizza il personaggio di Amin è la completa innocenza con cui lei riesce ad esprimersi. Gli anni pesano già molto sulla madre e la malattia che ha preso una parte del suo cervello, rubando le ricordi e le emozioni che così si sono dissolte insieme alla sua memoria e quindi lei parla spesso dicendo concetti insulsi, ma altre volte non si capisce perché parla, come se stesse vivendo in un film e lei ne è la principale interprete e così condivide i suoi pensieri. Benché molte volte non sappia neppure cosa stia dicendo, ma molto spesso le sue affermazioni sono momenti del suo passato che riaffiorano in maniera reale. Anche questo incontro con Fekely non andrà diversamente. La conversazione tra la vecchia anziana e l'imprenditore sarà a dir poco curiosa. Ma questo parlare così confuso di Annie con ogni tanto nella frase un ricordo molto nitido e preciso, magari non messo nel modo in cui siamo abituati a sentirlo, ma gli consentirà di fare molto chiarezza in un passato che a lui è sempre rimasto sconosciuto, della donna che lui ha sempre amato e tenuto nel suo cuore per tutto questo tempo. Dopo un po' di tempo che la conversazione della nonnina si è aperta ancora di più ed è entrato un pochettino di più in confidenza con lei, la nonnina gli spiega che sua figlia Uncar è sempre stata innamorata persa di lui e non di certo del suo defunto marito Adnan e poi gli aggiunge quel tassello che a lui mancava proprio e che non gli permetteva di mettere insieme le cose. La nonnina Annie aggiunge che Uncar è stata obbligata a sposare il marito Adnan Yaman per entrare a far parte della famiglia più potente di Adana. Amine arriva a confessare che sua figlia non è mai stata felice di quel matrimonio. Tuttavia ha dovuto accettare quell'unione poiché era ciò che desiderava suo padre per lei. Il matrimonio in cui Uncar non ha certo scelto di sposarsi. Il suo vero desiderio era sposare Fecheli. Tuttavia ha dovuto rassegnarsi a questo amore e sposare l'uomo che il padre aveva scelto per lei. E questa storia si è ripetuta anche quando Zuleila è stata forzata a sposare Demir. La nonnina, parlando così al vento, si lascia andare a queste piccole confidenze. In questa breve conversazione gli ha raccontato alcuni segreti del passato che a lui mancavano. Fecheli a quel punto coglie l'occasione per cercare di far capire ad Annine che i soldi non comprano la felicità. Ma l'amore sì. Dopo questo chiarimento l'imprenditore con dolcezza fa alzare la nonnina, sorreggendola, e l'accompagna nella villa, dove tutti nel frattempo stanno appunto cercando la mamma di Uncar. Quando Uncar vede arrivare l'auto di Fecheli con dentro la nonnina ne è molto sorpresa e lo stupore aumenterà ancora di più quando Fecheli le racconterà che l'ha trovata nel loro posto speciale. Non può assolutamente credere che la madre abbia ancora il ricordo di quel luogo. Da questo momento in poi, capitolo dopo capitolo, assisteremo al riavvicinamento di Uncar e Fecheli. Ma dopo aver appreso tutta la verità, si esporà un po' meno nei suoi confronti e serviranno ben poche parole per far riaccendere la miccia del loro amore perché sotto sotto hanno sempre conservato vivo l'ardore del loro amore proibito. Inevitabilmente la storia tra questi due personaggi riuscirà a far breccia anche nel nostro cuore ed entrambi inizieranno a vedersi nell'ottica unica come se fosse un ringraziamento da parte di Uncar per aver ritrovato sua madre. Uncar e Fecheli si incontrano nel loro posto preferito. Il paesaggio è spettacolare e Fecheli si apre con lei. L'ottua presenza qui è ciò che rende questo posto indimenticabile. Per me il mondo non esiste quando sorridi il tuo sorriso mi dà la vita. Voglio recuperare il tempo perso. Quando Fecheli le rivela che adesso sa che lei ha affrontato suo padre sul non voler sposare lo Yaman ammettendo di essere innamorata di lui è sincero con lei e rivela che ciò che le ha fatto più male è stata la sua assenza quando lui aveva così tanto bisogno di lei. Non può fare a meno che sorridere quando lo ricorda. Uncar risponde con un semplice sono cose del passato cercando di sminuire il tutto. Poi aggiunge mi hanno insegnato che la cosa più importante era la felicità della famiglia. L'unica cosa che volevo era vedere i miei genitori felici. Era il mio unico obiettivo ed è sempre stato quello di compiacerli. Quindi da adesso in poi dobbiamo restare molto attenti perché in qualsiasi momento tutto l'amore che questi due personaggi provano l'uno per l'altro può esplodere e noi possiamo vivere insieme a loro il momento più emozionante di questa storia d'amore. Se i contenuti del mio video ti sono sembrati interessanti lasciami un like ed iscriviti al canale per vederne altri. Al prossimo video!